Ho fatto una crostata buonissima, è un po' golosa. Vediamo come. Farina, peccola di patate, zucchero, mezza lustina di lievito, un pizzico di sale, crozza grattugiata di limone, la parte gialla mi raccomando, vanilline, olio, olio di girasole, latte vegetale, io la preparo sempre un po' abbondante quando faccio la pasta per la crostata perché se mi avanza va benissimo anche per fare dei biscotti e li potete, ho un altro video dove faccio i biscotti e li potete ricoprire di cioccolata, metterci dentro delle gocce di cioccolato, è una pasta base che potete fare altre cose. Prepariamo la crema. Amido di mais, zucchero, ne ho messo un po' di meno, comunque metto tutto in descrizione gli ingredienti, ne ho messo un po' di meno perché ci andrà anche la marmellata, la canillina, latte vegetale, io l'ho messo di avena, metto anche della scorza di limone, la faccio cuocere insieme, dà un sapore buonissimo, cotto insieme. Spine! Spine! Siamo. 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 Le bucce del limone ovviamente sono biologiche Le avete mai provate a mangiare? Pieni di crema, buonissime, provate! La inforniamo a 180 gradi per una mezzocita Se vi piacciono le mie ricette iscrivetevi al canale e mettete un like Grazie 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 Grazie